Dentro per uscire, però non riesci a fare questo se io avevo questo per esempio. Non riesci molto, no? Sì, no, è difficile per entrare. Quando controlli questo, è difficile destra entrare e è difficile destra uscire. E' chiaro che non è che mi deve mettere la mano, perché non c'è la spalla. No, no, l'ho fatto vedere. Mi ha da spalla. Qui ho fatto solo vedere qual è la posizione. Quindi quando stai qui, tante volte, Io qui, la posizione che faccio, se il braccio cade da questa parte, anche se mi prende, mi tiene, mi lascia un po' L'unica cosa che faccio è questa. Lui è prova venire da questa parte e io non lascio. Metto sempre la testa. Metto la testa. E faccio finta di perdere la posizione. Faccio finta di perdere la posizione. E' la stessa posizione. E' la stessa posizione. E' attenta, è questa. E' buona volta. Se guardate, è la stessa posizione. E' quella di prima. E' quella di prima. E' come quando Pinole si è fatto la gaviola e mi trovava da pancia sotto. Sì, io faccio sempre questa posizione. Faccio un po' finta di perdere la posizione. se stai qua e cominci a scappare è diverso perché è passato già la mano da qua faccio la leva se hai già passato e cominci a scappare vado in ginocchio è quello che faccio io vado sempre in ginocchio poi dipende se vuoi fare pressione qui dopo qui se stai molto qui quando lui scappa io perdo la posizione facile facevo pressione però perdo la posizione facile se stai messo di lato è più difficile che lo posso seguire il lato di seguire ha mangiato? no quindi sono qui quando metto di nuovo non vado a farlo di nuovo fate una prossima se non faccio il profusione quindi dormiamo due saldi quindi se c'è la mano se non c'è la mano guarda se lui è forte fa la panca non la faccio questo qua lo fai proprio come prima la forza non le fa passare la mano dall'altra parte usa la tua faccia la tua se lui prova piegare se lui vai 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 se lui mi gira vado all'arma loco conoscente tutto ok diamo facciamo un po' grazie 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 grazie